buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero come sta andando oggi come vi siete svegliati stamattina prima che io tiri giù le carte oggi voglio sapere da voi prima che io tiri giù le carte ok questa vuole scappare come vi sentite con quale piede siete scesi dal letto che sensazioni avete provato che cosa sentite nell'aria lo so che c'è tra voi gente sensibilissima so che ci sono persone che potrebbero fra voi fare l'oroscopo giornaliero senza conoscere i pianeti quindi ecco soprattutto da voi ragazzi mi interessa davvero sapere questa mattina prima che io butti giù le carte o che vi spieghi le carte che cosa sta accadendo e come vi sentite e adesso prendiamo l'ultima carta eccola qui e intanto ragazzi per diventare miei studenti sapete cosa fare inviate una bella email oppure andate sul sito abbiamo il sole il 4 di bastone rovesciato e il 6 di spade rovesciato bello un bell'inizio sicuramente perché la nostra giornata inizia con l'energia del sole quindi condizioni esterne che ci fanno star bene e questa è proprio la primavera che si sente ciò che ci circonda è luminoso magari è proprio una bella giornata fisicamente meteorologicamente parlando e se invece non è così il sole siamo noi che ce lo portiamo dentro quindi c'è comunque questo sole che in qualche modo illumina c'è questo benessere c'è questa sorta di gioia che sentiamo dentro che è dovuta molto probabilmente a qualcosa che sta accadendo al di fuori qualcosa che ci fa sentire bene in armonia in pace con l'universo ed ecco che con il 4 di bastone rovesciato e con il 6 di spade rovesciato la sensazione che ho è che questa gioia ci stia dando come dire la forza per aspettare la forza per attendere qualcosa siamo in attesa sembriamo in attesa di qualcosa il 4 di bastone rovesciato ci parla di un qualcosa che noi vorremmo concludere ci parla di un equilibrio che vorremmo raggiungere di una stabilità ecco questa è la parola giusta una stabilità che noi vorremmo raggiungere e che noi sappiamo essere lì per noi sappiamo che questa stabilità ci sta aspettando non sappiamo quando non sappiamo esattamente come non sappiamo magari esattamente quanto tempo dobbiamo aspettare perché ci sono potrebbero esserci rallentamenti potrebbero esserci ritardi piccoli ostacoli ma noi sappiamo che quel qualcosa è lì e sappiamo che ci stiamo arrivando e si tratta solamente di tempo è solo una questione di tempo quindi ecco che ogni desiderio ogni dubbio di andar via di muoverci di spostarci di cambiare direzione di prendere una strada diversa scompare ecco questo benessere che noi proviamo dentro ci dà la forza per superare questi momenti di blocco o comunque questa sensazione di ritardo e di piccoli ostacoli e di evitare di scappare evitare di andare via evitare di cambiare strada e direzione cosa prova per me mi cercherà impara a leggere la sua mente con il metodo maio iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com vogliamo rimanere dove siamo vogliamo andare fino in fondo vogliamo vedere che cosa succede vogliamo viverci quello che ci sta accadendo e questa è una forza è una forza che ci permette davvero di superare le emozioni negative le paranoie i pensieri più bui più cupi quindi ecco che questo sole ci dà davvero tanta tantissima energia ma vediamo qual è il consiglio degli angeli in riferimento a quello che potrebbe accadere oggi o nei giorni attorno ad oggi e vediamo un po' che cosa ci consigliano di fare quindi prendiamo una carta angelica ragazzi se volete una sessione privata ovviamente nel frattempo vi ricordo che potete inviare un'email o prenotare da soli tramite il sito scegliendo sul calendario giorno e ora che preferite e vediamo un po' che cosa esce adesso dunque abbiamo un 8 di aria un 8 di aria ecco l'otto di aria è proprio la carta che ci parla di questa sensazione di ci parla di questa sensazione di essere lì a un passo dal ma non esserci ancora tra l'altro la carta del sole a volte rappresenta anche cose che vengono alla luce cose che escono fuori cose che noi di cui noi veniamo a conoscenza cose che scopriamo cose che finalmente appaiono chiare mentre magari prima non erano molto chiare quindi ecco che potremo anche per esempio con questa carta del sole nella giornata di oggi o nei giorni attorno ad oggi venire a sapere delle cose scoprire delle cose conoscere cose nuove ma magari questo me lo commenterete e ci farete sapere esattamente che cosa rappresenta questo sole però ecco con l'otto di aria abbiamo nonostante tutto nonostante questa energia bellissima abbiamo però un po' paura ad agire quindi sembra che questi ritardi queste questi blocchi non sono solamente dovuti a fattori esterni ma anzi sembra che siano proprio dovuti a fattori interni a una mancanza di sicurezza in noi stessi che ci rallenta che ci ci blocca nell'agire nell'essere spontanei naturali eppure l'energia di questo sole dovrebbe essere sufficiente a meno che non si tratta appunto di questo sentirci bene dentro perché sappiamo che qualcosa è vicino che qualcosa sta arrivando ma non ci sentiamo ancora pronti al cento per cento per buttarci in questo qualcosa e allora ecco che ci sentiamo un attimino un po' in trappola però ecco è una trappola passeggera è una trappola momentanea che sappiamo sappiamo che lascia il tempo che trova e che non durerà per sempre però qui si tratta proprio di lavorare sulla sicurezza in se stessi qui si tratta sul si tratta anche di sapere rischiare a volte si tratta di avere il coraggio di lanciarsi e di non tirarsi indietro e di essere pronti anche a commettere degli errori essere pronti a sbagliare a farsi male cioè se tutto viene fatto con consapevolezza con la consapevolezza che tutto questo gioco della vita serve in realtà solo per fare esperienze e per imparare ecco che noi evitiamo a volte magari di goderci il momento per paura di farci male però ci stiamo perdendo un bel momento invece vale molto di più in termini evolutivi in termini spirituali vale molto di più il vivere l'esperienza buttarci si dentro e poi se si sta male va bene si vive anche il dolore quindi ecco cercare di essere più più distaccati anche e più compartecipi con le energie universali ad ogni modo ragazzi se volete sapere esattamente cosa sta accadendo nella vostra vita in questo momento inviatemi una email o andate sul sito e noi ci vediamo alla prossima